Brucia abbastanza, è brutto perdere così, soprattutto dopo una partita che è stata giocata abbastanza alla pari. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, hanno avuto anche loro delle buone occasioni, però ci stava il pareggio e perdere così brucia. Riguardo al VAR è una cosa che è intervenuto molto bene, nel secondo eravamo praticamente certi perché avevamo visto quasi tutti che era fuori ed eravamo sicuri che l'avrebbero annullato. Riguardo al primo invece non ce ne eravamo accorti, sono stati bravi loro anche in occasione del nostro gol, però ci è mancato proprio l'ultimo pezzo, è un rammarico, soprattutto perché è venuto al 93, comunque è una partita quasi finita, quindi c'è da lavorare e continuare su questa strada. È il mio dovere fare bene e continuare a fare bene, io mi sono trovato subito bene in questa squadra, in questa società, mi hanno accolto subito molto bene, quindi spero di continuare e di fare gli stessi progressi miei e individuali insieme alla squadra. La parata su Brozovic, quella direzione sul cross, poi sul gol è stato un tiro abbastanza casuale, veloce, non sono riuscito a intervenire come volevo, però spero di ripetere altre volte dei bei interventi. Credo che bisogna reagire in modo come abbiamo fatto dopo l'Udinese, ci hanno commentato la partita di Udinese in modo anche abbastanza pesante, ne abbiamo reagito in modo più che dignitoso, con una bella vittoria e anche con delle belle prestazioni successivamente, quindi direi che è il nostro dovere ripetere questo tipo di atteggiamento, questo tipo di prestazione anche in un campo difficile come Cagliari, quindi è il nostro primo obiettivo.